Dopo aver seguito in diretta lo spoglio delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo, Italia 2 continua a tenere accesi i riflettori sui protagonisti della tornata elettorale e lo fa con un programma dal titolo Il Dopovoto, che vede la partecipazione di alcuni degli eletti in Consiglio regionale. Lo scopo della trasmissione televisiva è di commentare non solo i risultati della recente elezione alla luce di dati e testimonianze, ma anche quello di affrontare con i prestigiosi ospiti in studio i propositi e i passi successivi dei nuovi rappresentanti salernitani a Palazzo Santa Lucia. A fare gli onori di casa nel Salotto Buono di Italia 2 sarà l'editore Nicola Maccapane, che si ritroverà a moderare l'incontro, al quale parteciperanno l'onorevole Gambino, primo eletto nelle fila del PDL in provincia di Salerno, l'onorevole Luigi Cobellis, eletto fra le fila dell'Udc, l'onorevole Giovanni Fortunato, eletto nelle fila di MPA, l'onorevole Donato Pica, primo fra gli eletti del PD e l'onorevole Gianfranco Valiante, eletto con Campania Libera. Il dopo voto andrà in onda domani sera alle ore 20 e 30 sul canale Italia 2 Videolab, sabato in seconda serata alle ore 23 su Italia 2 News e domenica in prima serata alle ore 20 e 40 su Italia 2.